Buongiorno, benvenuti a questa puntata di Faccia a Faccia, i protagonisti di questo programma siamo noi europei, però siccome non ci stavamo tutti nello studio abbiamo pensato di invitarne uno solo e che è rappresentante, abbiamo infatti qui con noi, un euro parlamentare, Damiano Zofoli, tra l'altro romagnolo DOC, quindi siamo proprio in casa, prima di tutto grazie per aver accettato il nostro invito. Senta onorevole, di solito l'Europa viene vista purtroppo sotto l'aspetto negativo, l'infrazione che fa l'Unione Europea, questa cosa che ce lo nega, quest'altro che noi non ne siamo parte, in realtà l'Unione Europea che cos'è? Siamo noi, giustamente, l'Europa siamo noi. Quando noi pensiamo all'Europa spesso immaginiamo un soggetto terzo, qualcosa di altro da noi con cui appunto si contrattano gli zero virgola, la regola dei bilanci, quindi questa idea di Europa oppressiva che ci obbliga, gendarme dei conti pubblici, che ci opprime, noi romagnoli, siamo in Romagna, siamo un pezzo di Europa, quindi quando parliamo di Europa parliamo di noi e qui c'è l'Europa bella, l'Europa creativa che scommette, che non si arrende, che crea, che immagina un futuro, ecco questa è la faccia, è l'altra faccia della medaglia, vogliamo mettere in evidenza anche le opportunità. Che sono tantissime. Un'altra cosa è che non si sa molto sull'attività di voi parlamentari europei, siete lontani anche fisicamente dall'Italia e quindi spesso sui giornali non compaiono le cose, le leggi che voi fate, soprattutto non ce n'è una paternità. Ad esempio, scusi la franchezza, lei che cosa ha fatto quest'anno, in questi ultimi mesi, per noi europei, ce ne vuole parlare? Certo, intanto io ho avuto l'onore, l'opportunità di fare anche il sindaco della mia città, di Cesenato, e lì la politica ha un volto, cioè col proprio sindaco, assessore, la gente può litigare, discutere, può non votarlo, può arrabbiarsi, ma lo vede, lo incrocia. Ecco, quando ci si allontana dal territorio, spesso la politica smarisce il volto delle persone, no? E quando pensiamo l'Europa, a chi pensiamo, no? Per cui bisogna ripartire, a mio avviso, proprio dai territori, dalla faccia della gente, dai problemi concreti. Ad esempio, è di pochi giorni fa la notizia dell'abolizione del roaming. Esatto. Sembra una cosa banale, ma nella vita concreta, se tu oggi italiano, romagnolo, vai in Europa, devi mandare un messaggino, fare una telefonata, collegarti a internet, prima la tua carta di credito te la succhiava, nel senso che dopo pochi due, due, tre ore, 20, 30 euro, cioè rimanevi senza contatto. Oggi si spende come in Italia. E questo è un passo in avanti. E aggiungo, dal primo gennaio, 2018, questa regola vale anche per gli abbonamenti, abbonamenti Sky, cioè per le partite, i film. L'Europa diventa come l'Italia, tutto uguale, noi italiani si spenderemo uguale. Ma torniamo al discorso dei numeri e chiamo la slide numero due alla nostra regia. Ecco, vediamo un po' Damiano Zoffoli, l'europarlamentare Damiano Zoffoli, che cosa ha fatto? Quali sono i numeri, diciamo così, così come il campionato di calcio, si sanno quanti gol la faccio il capocannoniere. Ecco, questa è l'attività, ce ne vuole parlare? 130 sessioni, presenze ovviamente. Quelle sono le mie presenze, nel senso che io sono mancato solo una volta in questi due anni e mezzo di attività alla seduta dell'aula. 4.768 votazioni. Tutti espressi, le miglia, i chilometri fatti in aereo. 145 viaggi aereo, che uno dice va in vacanza. No, non è assolutamente quello. Perché l'Europa ha delle sedi dove noi lavoriamo, quella più operativa è quella di Bruxelles e quindi io tutte le settimane prendo la mia auto, Cesenati, con un'ora di macchina, parcheggio, aeroporto di Bologna, volo aereo, Bruxelles, navetta, Parlamento e quindi di regola parto lunedì e torno giovedì notte, questi sono un po' i ritmi. E una settimana al mese invece Strasburgo dove c'è la plenaria, dove si vota, confini fra Germania e Francia, due aerei in quel caso perché non c'è il volo diretto e comunque una volta che uno ha preso un impegno, il minimo sindacale è di essere presenti. E purtroppo spesso appunto si discute di questo elemento perché, faccio un esempio, i regolamenti e le leggi sono frutto di una discussione spesso che dura mesi se non anni. E se non sei presente? Dopo di che cosa succede? Succede che al mattino il nostro vicino di casa legge il giornale e dice oh l'Europa ci rovina, guardate, ci impone, sembra che la notte prima qualcuno di nascosto abbia trafficato per creare dei problemi. In realtà sono discussioni che vanno avanti da mesi e da anni, per cui qual è il segreto? È essere presenti e intervenire con l'interesse italiano, nel nostro territorio nel momento giusto, quando le questioni si discutono, altrimenti dopo è troppo tardi. Certo, certo. Senta, lei fa parte di una commissione che si chiama ENVI, se non sbaglio. Esatto. Chiamo la slide 3 alla nostra regia. Ecco, di che cosa si occupa lei all'interno di questa commissione? Si occupa di ambiente a 360 gradi e sul materia ambientale l'Unione Europea ha molte competenze, cioè gli stati membri nazionali hanno delegato all'Europa molte responsabilità. Si occupa di sicurezza alimentare e di salute pubblica. Ad esempio, tutto il tema dei prodotti doppi GP e qui dobbiamo essere orgogliosi. Come Emilia Romagna siamo la prima regione in Europa, 44 prodotti certificati. Abbiamo anche il nostro squacquerone, abbiamo la piadina, abbiamo i salumi, il prosciutto. Cioè, queste sono le nostre eccellenze certificati. Ripeto, siamo i primi in Europa e sono la nostra carta di identità che ci invidiano e che dobbiamo tutelare e promuovere in tutto il mondo. Ecco, quindi Damiano Zofoli è un europarlamentare italiano che si occupa prevalentemente di ambiente, sicurezza alimentare, salute pubblica all'interno di questa commissione. Quindi, chiunque abbia delle problematiche su questo verso si rivolga anche a Damiano Zofoli che le può portare in Europa. Anche l'ultima questione dei vaccini. È chiaro che l'Europa, cioè la materia sociosanitaria, è di competenza degli stati nazionali. Non è stata delegata all'Europa. Ma in questa materia l'Europa ha un compito di coordinamento, di affiancare gli stati, di diffondere le buone pratiche. E anche rispetto a questo dato dei mille casi di morbillo in Italia, cioè del ritorno di malattie che erano sostanzialmente scompatti, io ad esempio ho fatto un'interrogazione alla Commissione Europea, gli ho chiesto rispetto alla diffusione o al ritorno di queste malattie di invitare gli stati membri, cose che poi giustamente il governo italiano, il Parlamento italiano ha fatto, di intervenire e di sostenere la vaccinazione. Lei ha già accennato a una sua interrogazione, quindi a un'attività parlamentare. Vediamo la slide numero 5 che ci parla proprio dell'attività parlamentare in senso generale dell'europarlamentare Damiano Zoffoli. E come vediamo ci sono 4 dichiarazioni scritte, 91 proposte di risoluzione, 47 interrogazioni parlamentari, 64 interventi in seduta plenaria. Quindi nel Parlamento europeo ci lavora. Questo è il dettaglio, un po' gli strumenti che un parlamentare ha, può chiedere alla Commissione, porre delle domande, porre dei quesiti. L'ultima domanda che ho fatto per esempio riguarda la diffusione dell'Erasmus sta anche per i disabili, per le persone disabili. L'Erasmus che è il più grande progetto, programma che ha permesso a 4 e 8 milioni di giovani di conoscere la lingua e di lavorare. E lì si crea gli europei. Si crea gli europei. Io ho chiesto che anche le persone diversamente abili abbiano queste opportunità. Che finora gli erano di fatto negati. Ma ancora interessa poche persone. Per cui io ho chiesto che anche questi nostri cittadini europei possano girare l'Europa. A proposito di nuovi europei o comunque di cittadini europei, bisogna anche portarli fisicamente a conoscere l'Europa. Infatti con la slide numero 7 andiamo a vedere le visite che ci sono state di giovani, e non solo giovani, ovviamente italiani, al Parlamento europeo, grazie ovviamente alla sua attività. Ce ne vuole parlare? Eh, questo è un momento molto bello. 555 visitatori ospitati. Abbiamo la possibilità come parlamentari, c'è tutto un sistema organizzato, quindi con dei supporti, di invitare delle persone a vedere, proprio per ridurre le distanze, a vedere la sede dell'istituzione europea. E io ho puntato soprattutto su due categorie. Intanto i giovani ragazzi, no? Le scuole con i loro educatori, insegnanti, e gli amministratori locali, regionali. Cioè io credo che queste due categorie, no? I giovani e gli amministratori locali che vivono tutti i giorni, concretamente, a faccia a faccia con le persone, i problemi, siano i due livelli su cui ripartire per rilanciare il progetto europeo. È un momento molto bello, anche perché si incontrano, si vedono le istituzioni europee, si vede dove votiamo, dove lavoriamo, e si incontrano i funzionali, si capisce meglio come funziona l'Europa. Anche gli amministratori locali cominciano a sapere cose che prima non sapevano, oppure avevano sottovalutate. È un'esperienza molto bella e chi viene poi ringrazia perché capisce e vede cose che prima solo immaginava. Senta, ma quali sono le sfide, i rischi dell'attività parlamentare europea, i limiti, che ovviamente tutte le cose hanno un limite, lei che frequenta giornalmente, cosa ti dici? Il limite principale è che l'Europa è un progetto incompleto. Io parlo di l'Europa a metà del guado, no? Certo. È partito 60 anni fa, abbiamo ricordato il 25 marzo, i 60 anni del Trattato di Roma, e oggi siamo di fronte a delle sfide enormi, no? Le elenco brevemente, l'immigrazione, il terrorismo, i cambiamenti climatici, la Brexit ultimamente. Eh già. Cioè, sono tutti problemi che i nostri cittadini vivono a casa loro, cioè il tema dell'insicurezza, della preoccupazione, noi lo vediamo a Cesenatico, Cesena, Forlini, Romagna, Bologna, il tema degli immigrati, dei profughi, sono nelle nostre strutture ricettive, sono nelle nostre città e si crea un dibattito, spesso anche addirittura delle tensioni. Ecco, questi problemi che noi viviamo ogni giorno, non possiamo risolverli qui. Abbiamo bisogno di risolverli, perché essendo problemi europei e addirittura mondiali, abbiamo bisogno di un'Europa forte, che funzioni, presente. Ecco, quindi dobbiamo completare il progetto europeo, perché così com'è l'Europa, spesso dimostra tutti i suoi limiti. Ma rispetto alle due teorie, metà del guado, metà del fiume, c'è qualcuno che dice torniamo alla riva di partenza, abbiamo sbagliato tutto, l'Europa è la causa di tutti i nostri problemi. C'è qualcuno che dice, io sono fra questi, nuotiamo più forte, passiamo dall'altra riva e completiamo il progetto europeo. Senta, parliamo di diversità. Gli europei sono diversi, diverse lingue, diverse religioni, diverse culture. Ecco, questa diversità la si può unire in qualcosa che sia efficace? Ecco, la caratteristica dell'Europa è uniti nella diversità. Cioè, le diversità non vanno confuse, attenzione, con le disuguaglianze. Cioè, le disuguaglianze sono da combattere, sono un disvalore. Le diversità sono un valore, cioè ciascuno di noi, noi due, chi ci ascolta, siamo tutti diversi, non c'è una persona, i popoli europei, sono tutti diversi. Ma questo è lo strumento per combattere le disuguaglianze. Quindi le diversità non devono spaventarci, ma sono un arricchimento. Ecco, la capacità della politica, del progetto europeo, dei fondatori, l'idea è proprio questa, fare di queste diversità, pensiamo, in Europa ci sono 24 lingue. Quando io parlo, vengo tradotto simultaneamente in 24 lingue. Accidenti. Anche quello che viene scritto, ognuno di noi ha diritto di avere i documenti nella propria lingua. Quindi c'è questa ricchezza, che poi si manifesta concretamente anche nel nostro lavoro, che però non è un ostacolo, ma un valore. Senta, troppo grande con i piccoli, ma troppo piccola con le grandi potenze emergenti. Lei le indica questi come dei limiti dell'Europa unita. Ecco, è un esempio per far capire che spesso l'Europa è troppo grande con i piccoli, cioè con i cittadini, con la gente, spesso abbiamo quest'idea appunto di un'Europa lontana e oppressiva, quindi che in qualche modo è troppo grande, che ci sfugge, e poi diventa timida, piccolina, con le grandi sfide, no? Per cui abbiamo bisogno invece di un'Europa più grande, più forte, con i grandi, e più piccola, cioè nel senso più vicina, più attenta ai bisogni delle persone. Senta, lei dice genetico, siamo in un periodo estivo, io non posso non chiederle della Bolkestein, che cosa ne pensa, come pensa che andrà a finire, eccetera, eccetera. Eh, questo è un esempio di una situazione che si sta trascinando da 11 anni, perché la Bolkestein è il nome di una direttiva di chi l'ha promossa 11 anni fa, a livello europeo, che parla della liberalizzazione, no? Dei servizi, sapete, l'Europa, il mercato comune europeo funziona su quattro libertà, libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi. Ecco, i servizi di spiaggia sono 11 anni fa, 11 anni fa, entrati in quella direttiva, che prevede che le assegnazioni delle concessioni non siano più automatiche, ma attraverso delle gare pubbliche. Ecco, questo è il classico esempio, secondo me, di, intanto, un deficit di presenza, forse di impegno a Bruxelles, 11 anni fa, quando il progetto si è costruito. Dopodiché, all'italiana, la cosa si è trascinata, con delle proroghe, delle deroghe, poi vediamo, poi la risolviamo, eccetera, fino a quando i nodi arrivano al pettine. Ora, la partita d'oggi non è più una questione europea, è in mano al Parlamento italiano, quindi è una questione nazionale. È possibile, noi parlamentari europei abbiamo lavorato in questa direzione, per rispettare quella che è la Porta di Giustizia europea ribadita essere una regola imprescindibile, cioè quella delle gare, però tenendo conto delle caratteristiche della nostra economia, delle nostre imprese. Noi non possiamo smantellare, espropriare, distruggere un sistema che io conosco bene, che funziona, che per certi aspetti è un modello a livello europeo, che è quello delle piccole e medie imprese a gestione familiare. Quindi dobbiamo trovare una soluzione in Italia per tutelare quella ricchezza e quelle presenze. Secondo me ci si può arrivare, ci sono margini di manovra. Secondo me ci si può arrivare, c'è una proposta in Parlamento italiano, secondo me che va in quella direzione, e quindi ora la palla è in mano ai parlamentari romani. E i suoi amici Bagnini di Cesenatico cosa dici? Sono molto preoccupati di questa situazione che appunto si sta trascinando da tempo, però io credo che appunto anche in accordo con le loro categorie di rappresentanza si debba e si possa lavorare per trovare delle soluzioni intelligenti. Senta, torniamo alla sua attività parlamentare nell'Europa. Lei è stato l'autore di tre guide ai finanziamenti europei, se non sbaglio. Chiedo la slide numero 6. Ecco, ce ne vuole parlare di queste tre guide? Di che cosa si tratta? Ecco, finanziamenti europei, anche chi contesta l'Europa, quando si parla di soldi le orecchie si aprono. Cioè ci sono delle opportunità e in sette anni, la programmazione dura in Europa sette anni, si parla di mille miliardi di euro, quindi tante risorse, che vengono distribuite ai territori e in due sistemi. Uno passa in Italia attraverso le regioni, quindi nel nostro caso la regione Emilia-Romagna e lì c'è tutta una programmazione che interessa il pubblico e il privato, conosciuta, con una strategia appunto. Poi ci sono invece dei soldi, cosiddetti finanziamenti diretti, cioè è possibile partecipare a delegare dei bandi a livello europeo senza l'intermediazione delle istituzioni locali. Ecco, su questa partita noi italiani possiamo e dobbiamo fare di più. Per cui quelle guide che si rivolgono, una alle imprese, un'altra agli enti locali e una tratta in particolar modo del turismo, no? Che è un po' l'economia assieme all'agroalimentare, Romagna, è la nostra regione, è il nostro territorio. Ecco, lì ci sono le informazioni utili e per accedere a questi finanziamenti, per partecipare a queste gare, non dobbiamo dimenticare che nel caso dell'Italia, ogni euro che noi trasferiamo all'Europa ci tornano indietro 60 centesimi. Quindi abbiamo un margine di crescita significativo, notevole nell'aggredire quelle risorse europee. Immagino che a parte i finanziamenti che arrivano tramite le regioni, che quindi sono abbastanza conosciuti, gli altri, quelli diciamo così che ha detto i finanziamenti diretti, qui gli italiani spesso sono ignoranti, ignorano queste leggi, queste possibilità. Esatto, infatti la funzione di queste guide, di questi strumenti è proprio questa. Io accompagno naturalmente questi guide con degli incontri del territorio, ho fatto iniziative con le Camere di Commercio che hanno relazioni, che coordono il mondo dell'imprenditoria, sono stato naturalmente in dei comuni, ho fatto iniziative e anche singoli cittadini, organizzazioni che mi contattano, cioè il tema è questo, far conoscere le opportunità, entrare in questi meccanismi, perché io ho visto, la difficoltà è la prima volta, entrare nel meccanismo, bisogna avere un'idea, un progetto, cioè questi sono soldi che vanno inseguiti, intanto non possono essere usati ad esempio per asfaltare le strade, per fare delle manutenzioni, sono l'idea di questi fondi europei è produrre crescita, sviluppo e innovazione, cioè fare delle cose nuove, interessanti, di qualità che possono essere poi replicate da un'altra parte in Europa, perché spesso bisogna anche creare delle sinergie, dei parternariati con altre realtà o altri paesi o altre associazioni, però non ci si deve spaventare, cioè ci sono gli strumenti per creare anche le relazioni, quindi chi intende scommettere o provare di aggredire queste risorse, noi, io credo, parlamentari europei, dobbiamo essere al loro fianco a aiutarli. Sto pensando alle start-up, queste famose nuove aziende che nascono e magari non sanno che in Europa proprio per loro c'è a disposizione qualcosa. Esatto, e su questo settore bisogna dire che in larga parte l'intermediazione è quella regionale, quindi il punto di riferimento nel nostro caso è la regione Emilia-Romagna, ma io penso che oltre alla nascita poi noi dobbiamo accompagnarle queste nuove imprese, perché il problema è che ne nascono molto, ma purtroppo ne muoiono anche molte, per cui da start-up a sky-up, cioè devono prendere il volo, non solo nascere, ecco e anche in questo caso ci sono delle risorse per far cuocciare. Veniamo adesso alla terza e ultima parte di questa interessante conversazione, parliamo di giovani, slide numero 11, cambiamo l'Europa con i giovani, questo è il titolo di una sua pubblicazione, che cos'è? Ah, è qui, la voglio far vedere perché ne sono anche orgoglioso praticamente. Cioè a un certo punto spesso quando si parla dei ragazzi, i nostri figli, ho due figli, due ragazze, la cosiddetta generazione Erasmus, noi festeggiamo proprio quest'anno i 30 anni di Erasmus, questo programma straordinario che ha permesso a tanti ragazzi appunto di girare la lingua, conoscere l'Europa, spesso ecco, quando pensiamo ai giovani pensiamo come della gente malata, tutelata, tutti in difficoltà, da preservare, cioè io volevo rilanciare un'idea invece dei giovani protagonisti, dei giovani, io li ho chiamati la vera energia rinnovabile a costo zero dell'Europa, cioè questi sono i ragazzi nativi europei, cioè sono nati in un mondo, ad esempio la mia generazione, ancora c'erano le frontiere, le baglieri, i passaporti, questi ragazzi invece che sono nativi europei vanno incoraggiati, non vanno scoraggiati, tutta la sfida della disoccupazione, della difficoltà che c'è sul mercato del lavoro, ecco io voglio far vedere anche le opportunità. Certo, senta, io qui sto vedendo slide numero 12, le opportunità appunto che hanno i giovani europei, come fare per studiare, lavorare, lavorare presso le istituzioni europee, fare volontariato, la propria attività culturale, la propria attività sportiva, finanziare un'impresa, insomma lei offre veramente una sorta di lampada di Aladino ai tutti i giovani italiani? Certo, qui non ci sono ovviamente segreti né miracoli, però spesso ecco c'è un problema rispetto all'Europa, anche di informazioni, io ho messo in ordine, ho cercato di rendere evidenti tutte le opportunità che esistono non da domani, da oggi, cioè oggi esistono, per cui se un ragazzo si interroga appunto sul lavoro, sullo studio, quelle che sono poi le sfide dell'oggi e del domani, fare volontariato, come veniva ricordato, attività sportive, culturali, avviare un'impresa, garanzie giovani, che è un progetto europeo che ha permesso a milioni di ragazzi, quelli cosiddetti net, che non studiano, non lavorano e non si formano, quindi sono spesso i ragazzi a immagini e dimenticati, diciamo, ecco a questi ragazzi di avere un'opportunità, di far valere nella vita quanto valgono. Senta, slide numero 14, intanto chiamo per la regia, ovviamente lei, la sua attività la svolge, come abbiamo già ben capito, prevalentemente, gran parte in Europa, a Bruxelles e non solo a Bruxelles, però qui la vedo con accanto dei personaggi che indossano la fascia tricolore, cioè sono dei sindaci, è importante il rapporto col territorio e non rimanere solo a Bruxelles a parlare di cose europee? Sì, quello è un appuntamento, c'è anche il vicepresidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e dei sindaci del nostro territorio, vedo Bologna, è l'occasione, c'è il gonfalone dell'Emilia Romagna, dei 60 anni, eravamo a Roma per ricordare i 60 anni del Trattato di Roma. Ecco, io quando vedo una fascia tricolore mi emoziono, perché... Lei l'ha indossata, quindi mi sa... E quello, devo dirlo, poi ho avuto altre opportunità straordinarie di impegno nella politica, ma il livello locale, che è faticosissimo, perché tu sei sindaco 24 ore al giorno per 365 giorni, Pasqua, Natale compresa, è onestamente quello più bello, perché lì tu vedi ogni giorno quello che riesci a fare, hai un contatto diretto con i cittadini, quindi la politica ha un volto. E noi dobbiamo avere... abbiamo questo compito di restituire alla politica un volto. Un volto. Senta, per concludere brevemente, parlamentare europeo, onere ma anche onore. Tanto, grandissimo onore. Io lo dico a chi mi... spesso incontro questi ragazzi, mi chiedono della mia vita, come ho fatto, perché ho scelto l'impegno politico, sono un dentista, ho fatto per 11-12 anni, è tempo pieno il mio lavoro, ma ho sempre avuto questo interesse per la politica e per gli altri, che me l'ha trasmesso, lo dico sempre, soprattutto la mia famiglia, mio babbo, no? Mi diceva, Damiano, studia, lavora, impegnati, ma ricordati che è la casa delle porte e delle finestre, cioè fuori c'è qualche donato, no? Quest'idea dell'impegno nella società. Non immaginavo mai di avere questo onore in questo momento, dove l'Europa è al centro di tutto il dibattito mondiale, di rappresentare il mio territorio, la mia gente in Europa. Mi sto appassionando a questo incarico, cerco di far tesoro dell'esperienza che ho fatto in un territorio. Io mi considero un politico di cortile, non sono un politico, un volto nazionale conosciuto, ma quando discutiamo Bruxelles e Strasburgo delle questioni, io cerco di capire l'effetto che hanno concretamente nella vita delle persone, no? Per non fare questo errore di fare o delle chiacchiere o di prendere delle decisioni che anziché facilitare, ostacolano la vita delle nostre imprese e della nostra gente. Onorevole, lei che dunque si autodefinisce un politico di cortile, non mi rimane altro che augurarle buone... Adesso il cortile è diventato più grande. Più grande, però i polli sono sempre lì da accudire. Grazie onorevole per le tante cose interessanti che ci ha detto e soprattutto buon lavoro. Grazie a voi e alla prossima.